Incredibile equilibrio! Vuoi vedere come due bottiglie possono stare in equilibrio su un tubo inclinato? Avrai bisogno di un tubo lungo circa 30 cm e due bottiglie da mezzo litro. Fai due buchi nel tubo per incastrare le bottiglie. Taglia il fondo del tubo a un angolo di 45 gradi. Ora posiziona una bottiglia nel buco più basso. Sarei sorpreso che l'assemblato sia bilanciato. Ora posiziona la seconda bottiglia nel buco più alto. Osserva le tue bottiglie nel tubo.